Se dovesse piacerti il video, metti un bel like. Ho qui il telefono, ma Orazio non c'è. C'è qualcosa che non va. Lo penso anch'io, ma c'è una telecamera. Ok, sì, controllo la telecamera. Torniamo indietro, vediamo che è successo. Eccolo! Chi diavolo è quello? Vattene da lì, Orazio. Sì! Cristo! Resisti, amico. Non posso crederci. Cristo lo stanno sequestrando! Dobbiamo capire chi diavolo sono. Josh, il riconoscimento facciale. Cazzo. Quello si vede bene. Louis Stravino, membro della banda dei Tesca. I Tesca? Oh, cazzo! Serve la posizione di Trevino. Ho il suo telefono. Il GPS indica che è in un palazzo vicino. Te lo indico. Ho! 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 Grazie a tutti. 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 Stanno arrivando, ok? Tieni duro, tieni duro. È morto. È morto, cazzo. Oh, Cristo, Marcus, vattene subito da lì! Cazzo! 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 Forza, forza! Forza, forza! Forza, forza, vero? Vai via da lì, Marcus, devi uscire ora! Cazzo, 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 cazzo! Forza, forza, forza! Non ancora. Voglio trovare quei bastardi. Attività telefonica insolita nei paraggi. E come, proprio lì di fianco. E come, proprio lì di fianco. ! Ciao. Ciao! Oye! C'è di tutto lì. Cocaina, scommesse, ricatti, erba, altra coca. Nomi? Sì. Bene, vediamo chi sono quelli che hanno preso Orazio. Voglio che il Tesca sappiano che sto arrivando. Brucia tutto quanto, amico. Sì. Gli brucio la marijuana, eccola qui. Usano un pesticida illegale. In grandi dosi, è estremamente infiammabile. Modifico il sistema di irrigazione con il pesticida. Allaghi i campi con quella roba e incendiali. Ne vuoi ancora? Sparate! 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 Mi rascondo quello. Mi rascondo quello. E' del sangue! Metto un altro caricatore. Continuiamo a sparare. Prima! Impostio... Molto martigano! Sono un po' che casino. Molto che cosa può fare. Sparate! Edurna! Sparate! 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 Cosa cazzo succede con questi telefoni? Ah no, carai! Che non lo spisca il discubierto! Oigan patos, questa ratta sta... Si? Muele! Si, che chan? Pronto? Hey! Porca tralla! Oh, oh! Oh, oh! Ho trovato la bambina! Oh, oh! Oh, oh! Voglio trovare quei bastardi. Attività telefonica insolita nei paraggi. E come? Proprio lì di fianco. Ehi, 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 ehi. Ehi, 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 ehi. Voglio che i tesca sappiano che sto arrivando. Brucia tutto quanto, amico. Sì, gli brucio la marijuana, eccola qui. Usano un pesticida illegale. In grandi dosi, è estremamente infiammabile. Modifico il sistema di irrigazione con il pesticida. Allare i campi con quella roba, incendiati. Dimmi tutto. Venga. Oh, gara! Mi sentite di dietro a qualcosa! Sì, che c'è? 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 Cosa ti serve? Versaglio individuato, invio le informazioni. 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 Versaglio individuato, invio le informazioni.